Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di minecraft 162 e si sta facendo notte what the fuck chi è questo muori ok sono con diamond di ascia e scusate se il telefono suona ma c'è stato a niente e finalmente è tornato dalla sua super cellulare muori vacanza stavo facendo slender dalla finestra ti stavo osservando aspetta un attimo che devo rispondere ciao ragazzi ciao 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 sono tornato si prente vabbè per un po' non avevo più voglia di registrare bla 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 è stop prima poi se stasettimana dipende quando sarà caricato sto video non lo so sono andato in vacanza a mallorca uscirà un video forse probabilmente a proposito in cui parlerò più dettagliatamente di queste cose e si mi sono divertito bla 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 eh io ho paura non per dire sono senza niente non ho nulla eh te stai qua fermo va bene sai che ci possono salire 3 miliardi di creeper e io non vedo una mazza se veramente non c'è una spada in qualche cesso cioè ma è tutto buio cioè non illumini nemmeno la casa è tristezza mo spawnano creeper in casa non cazzo vuoi poi non dare la colpa a me e si esplodono eh sto pure morendo di fame è giù ma sempre sto telefono c'è mamma mia c'è un telefono dipendente è un telefono dipendente mi è finita la spada dobbiamo fare il letto porca proteggimi 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 cosa che devi fare? il letto per te non abbiamo lana non vedo non vedo niente ah un altro zombie e due zombie ah ah devo usare il piccone muori 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 ah mori mori eh in che somma adesso per colpa di minecraft uno sei c'è la possibilità che me ne spona un altro nel giro di 20 blocchi esci dal server devo andare a nanna scusa porca ce n'è un altro muori chifoso vai avanti ok speriando che non mi sveglia nessuno zombie mentre sto dormendo ah devo cantare ah ok puoi entrare ah un ragno un ragno ah sai che cazzo ok stai venendo però c'è stai venendo oddio in che senso eh arrivi a fare ah 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 eh un po' di contenio mica siamo su youpo eh è su youtube eh insomma mica sull'altro youpo eh un'altra zombie perchè io vedo tutto nero ah che mi è fuocato questa cosa non la sapevo minecraft ti odio perchè mi è fuocato uno zombie fuocato eh non ci sto capendo nulla vuoi teletrasportare ehm dove stavolo ah giusto allo spawn ma io tipo avevo già fatto il comando una volta ok ragazzi si questa è diventata una serie in multi già ciao a tutti tanto ora ora si riprende a me è buonanotte quindi si si allora ciao ragnetto perfetto comunque comunque noi ragazzo abbiamo continuato mi sembrava un altro zombie ho detto ok comunque io dovrei farmi un'altra spalla quindi ferro a me eh sai che avevo due pezzi no vabbè dai ti faccio un'armatura no no vabbè mi stavo facendo una spada perchè era una notte poi è arrivato lo zombie e mi stavo uccidendo e io sono ancora qua perchè mi larga io sono ancora qua mi larga troppo e già e già e basta io sono ancora ciao io sono ancora ciao va bene certo non lo sapevi io sono ancora miau maleducata per sonatistica oh 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 ero tutto nero perchè sono sottoterra perchè sei una salpa E fare un'ipotesi Abbastanza Credo che sono finito dove sei passato te Nelle grotte Ti ho lanciato l'armatura a terra Il problema è che ti ricordo Sto laggando quindi Armatura? Restare lì Nessuno che ti indossa Ah ti lancio anche il piccolo Magari un po' più vicino Io sono qua sotto nelle caverne Come se il mio corpo sarebbe lì La mia anima è qua Mio dio che frase Troppo bello Ragno mori Schifosi un ragno Sai che sono stati avvistati Sono stati avvistati degli UFO Da qualche parte Non lo so ho sentito il telegiornale Ah beh Sai come ha detto il giornale Ok oh Se hai sentito in Italia 1 lascia stare perché guarda Sono riuscito a vedere sul studio sport che parlano di Sasha Gray quindi lascia stare proprio Lascia stare Stai piazzando il vetro? Mi dicono di sì Dove l'armatura? L'ho ripresa perché pensavo che spadisse Sinceramente non ci voglio di buttare più di 24 di ferro È dietro Ah ok Cioè proprio l'entro così Inizia a finirmi il ferro No mi ritro Vai a pigliare la sabbia Mi serve tanta sabbia Ok Eh se mi dai una pala Craftala Con cosa? Col ferro Con cosa? Cobblestone Eh mi faccio una spagna No non usare la cobblestone che non ne ho Vabbè allora Vabbè tanto ora se la vado a prendere No proprio E se no ti finisco il ferro Te sei capace di craftarti 25 Eh non hai legno? Eh l'ho tutto io qua Figlio Me ne dai un po? Grazie Eh prego Io prego Tu preghi Perfetto comunque io posso far la lana con il filo però mi farò gli altri Perché sono più figli Cosa puoi fare? Andrei far la lana con il filo ma farò l'arco Ah Cos'è che hanno aggiunto di nuovo visto che sono rimasto senza internet per un po' Eh Non è potuto fare Ok No il mio velo il mio coso Tocchini il colegno Dietro di te Ok hanno Vabbè a pigliare la sabbia Hanno aggiunto i cavalli Sì vabbè quello lo sapevo già Per fare i video Non ho detto una niente Cosa? Per fare i? Niente Ok ok Credo tu abbia capito Ok Forse Ok perfetto Eh hanno aggiunto i cavallucci Hanno aggiunto i cavallucci marini Sì certo hanno aggiunto No aspetta vieni un attimo dimmi se non è la mia impressione Vieni fuori di casa Un attimo Eh non mi troppo Mi serve lo squid Ah sì ok Non mi troppo il blocco I blablabla Vieni un attimo Dimmi Aspetta un attimo Ok adesso me li troppo Ora guarda Aspetta un attimo Che spacco Non ti sembra anche a te Che prima Le canne di bambù Quelle a primo livello Così no Quello lì è ancora lì Eh erano tutte Tutte le canne che venivano fuori In che senso Erano tutte sullo stesso livello Invece adesso ci sono quelle un po' Più basse E quelle un po' più alte È una mia impressione No in che senso No ho capito Perché Non vedi per esempio Questa qua Prendi questa no Eh Sto puntando io Quelle al centro Sono più alte Mentre quelle lati Sono più basse Prima nella 1,5,2 O nelle altre Non erano tutte allo stesso livello Le canne che venivano fuori No scusi No 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 sta laggando Non riesco a capire A me sembrano tutti Sembrano tutti uguali Ma non tutt'allo stesso livello Nel senso Ci sono quelle più alte E quelle più basse Capito Non mi sembra Beh parlare con te Come parlare con le garnier Di Antonio Bandera Perfetto Andiamo avanti Allora Riconosci il mio panino Dai Dai So così lo prendi Oh se tu che mi conosci Che cazzo Ha indicato un panino caso C'è quello che voleva C'è pane E pane Il mio Non me la ricordo più Porca vu E c'è pane E pene Perfetto Mi serve tanta sabbia Eh la sto prendendo Solo che lagga Sai com'è Sì sì Tutte scuse Per non dire che Sì Ok io volevo fare Tipo una cosa Tipo Entrata A stile Babbo Natale Quindi mi serve Queste qua Me ne servono altre Quanti 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 te ne serve Quanto me ne serve Prima cosa Di cosa Di sabbia Ok Minimo minimo Cinco sei stack Oddio Dai quattro Agli otto stack Eh la madre Eh devo fare anche il pavimento Sai che si può finirò Prima la palla Perfetto Ne crafterai un'altra Semplice Dicita Sì Cosa faremo di bello in stasera? Eh per esempio Faremo Non lo so Eh cosa faremo? Sapessi Facciamo il My Little Pony Ma è lì Ok sì È una delle Un'idea Solo che non c'è My Little Pony Non si possono colorare i cavalli Eh Sarebbe da Tipo mandare un feedback Ok Facciamo il cavallo tamarro Con la criniera Tutta colorata Sì Arcobaleno Neanche Eh sì Qualcosa di No ma io tipo Ma ti posso Cosa? Si può attaccare da cavallo No? Sì Si può Sì sì Un scontri medievali Mi dicono Eh Fai spoiler Sì Perfetto Ok qui volevo fare tipo un'entrata a po A stile portico Solo che verrebbe troppo una cacata Quindi mi dicono che non la farò Quindi Chi te lo dice? Eh sapessi Cioè quindi te lo dice Qualcosa del genere Ok Che è quindi? Muore Me lo presenterai un giorno Certo È simpatico Quindi? Vado Se lo metti insieme a So Poi vedi com'è simpatico Ok questa qui probabilmente non la capirai Quindi so So quindi? No non la so So se non mi sbaglio In inglese significa quindi Ah? Eh non ci arrivo io Mi serve l'ana prima che si faccia notte Ho dovuto sforzarmi per Nove giorni a capire spagnolo Sì perché lui è andato in vacanza in Spagna Sto schifoso No l'ho già detto credo L'ho già detto Sempre se stai Eh quando Quando me ne sono andato Sei cazzero Eh dovevo intrattenere in qualche modo Tipo dicendo perché desponano i mob così a Cazzo Vieni qua torna in casa Eh aspetta Devo prenderla lana Ma non hai altra lana? Eh no Adesso sto pia Ok Vabbè io campero sopra la cesta Certo Metto Cioè ho preso quattro stack di sabbia La pecora nera Ok da Poi sopravvivene tra pala Che mi sero Interessante Cosa interessante Che ti vedo tipo volare nel vuoto perché non mi carica il chancop Ok allora la tengo Bello Mettere qualche torci in casa no No Mi dici quando mai ti metto nel torci in casa Hai del cibo? Eh Oh posso prendere tre panini? Sì No i panini no! Prendi le bistecche Troppo tardi Sto mangiando i panini Ho mangiato dei panini Ok Ne ha avanzato uno Ma lo terrò per me Perfetto abbiamo un letto per Babbo Natale Che metterò volante anche lui No me lo fa mettere volante Ok quindi io userò una tattica molto avanzata No no! Lasciò per te la facciamo il letto a castello Però tanto quando tu ti sveglierai muoierai al soffocato Quindi mi va bene Ma non sottolinei! Io sopra! Io sopra! Ma non so se fosse un po' Mori schifoso E' uscita una versione di Optifine Interessante Sì è super! E' uscita una versione di Optifine Quando prenderà Eh ti lascio con la sabbia Quanto ne hai? Uno stack Quattro stack Quattro Ah bravo bambino vado a prendere altro e tunse 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 che caldo che fa che tempo che... eh no che caldo che fa non son più abituato certamente perchè mi dicono che in spagna non fa caldo vero e c'è una bella rietta poi con tutta la gente che ti distrae col mare cosa? niente cosa? niente ah ma che cazzo? what the fuck? oddio cos'è uno zombie con la testa? perchè c'è uno zombie minuscolo? che corre velocissimo minuscolo? i mini zombie! come ho parlato? cosa? se era un mini zombie era ucciso guardate appendo al muro veramente era piccolo vado ad appendermi perfetto i tuoi quattro sacchi di sabbia li ho già finiti quindi devo venire ad aiutarti aspetta no mi appendo al muro io mi devo appendere al muro in qualche modo ok basta si era piccolo e l'ho ucciso in che senso? perchè cosa cambia? eh non lo so lo potevamo allevare davvero? no però lo tenevamo tu lo allattavi? ah certo come no logico oppure tu entravi con una schinda oh creeper comunque mi sto massacrando you die bitches no veramente è solo uno quindi devo dire bitch però vabbè perché? perchè? ah ok ah ok no mi era scomparsa la pala ah bene mi piacciono i baggi con minecraft no l'avevo gettata terra per sbagli che bravo che voglio come spercare il ferro esatto che ho trovato duramente ecco eh ma io non lo so quindi ah già che lui ti poi non ha guardato nemmeno un video ah non ha detto nemmeno quello di Slendy che triste eh non ho guardato nemmeno cioè proprio quello di Rocco che diamine mi dico l'ho trovato una caverna what the fuck chi ce lo dice? ok ok dios bug io sbaglio io sbaglio io sbaglio quando ho fatto una caverna cos'è un tempo portofoso io ho trovato porto cristo ma dici che lì le persone camminano sull'acqua questa è la pessima fatto mamma mia no no chiedo no 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 scudo no scudo no scudo no scudo no 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 l'alberto l'alberto lo tempo del bar con 2 proprio bene perfetto ti posso fare costante per o per stare in casa c'è 18 minuti quindi direi che ma io non ho minuti perfetto quindi per questo episodio oltre ciao a tutti ciao a tutti ragazzi al prossimo video ma tu dove sei? no era più bello quel finale si che tipo mi venivo in parte tipo ok basta ciao a tutti ragazzi al prossimo video